Michele e Marcolini, Bassano e Real Vicenza hanno dimostrato di essere veramente due grandi squadre e alla fine, come spesso capita in certi confronti, le forze in campo si sono annullate. Sì, credo sia stata una partita piacevole, di fronte c'erano due squadre che hanno sempre cercato di costruire azioni offensive quindi credo che lo spettacolo sia stato più che discreto, è un pareggio che alla fine ci sta, ci sono state un po' di occasioni di qua e di là io sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, venire in un campo difficile come quello di Bassano non è mai facile i miei l'hanno interpretata bene e per questo sono contento. Partita comunque da due grandi squadre che hanno dimostrato che possono sicuramente arrivare in fondo. Ma questo lo dirà il campo in futuro, di certo ad oggi sia noi che il Bassano siamo due realtà che stanno esprimendo un buon calcio e stanno raccogliendo dei buoni punti, per quello che si è visto anche oggi non posso che fare i complimenti al Bassano è una squadra organizzata come me l'aspettavo e di conseguenza però faccio anche i complimenti ai miei ragazzi perché se siamo riusciti a uscire indenni da questo campo, meritandolo assolutamente, vuol dire che abbiamo fatto bene. Voi siete due squadre che secondo me hanno tanti punti in comune, il primo di tutti forse è la mentalità, la capacità di non abbattersi di fronte alle difficoltà tanto è vero che quante parti avete recuperato sia il Bassano che voi. Sì, è vero, ho visto anche guardando i video del Bassano ho notato questa cosa, vuol dire che ci sono i valori e c'è anche la consapevolezza e di conseguenza c'è anche carattere che ti permette di non buttarsi troppo giù nei momenti difficili. Adesso sono doti che spero che potremo mantenere anche nel giro di ritorno perché le partite nel giro di ritorno sono più difficili, ci vuole un qualcosina in più, però se questa è la base c'è da lavorare. Grazie. Prego. Grazie.